Nick! Nick fermati adesso, fermati Nick, fermati! Vedi, vedi, ecco, dove? Vabbè, spara, dai! Né sedere gli sparo! Ciao a tutti i nick e ragazzi, bentornati qui su The Hunter, siamo in compagnia di Strenos! Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo una bellissima battuta di caccia, quella che avete chiesto con me e Nick, appunto, Che cacciamo le renne! La caccia alla renne, esatto! Cacciamo le renne, cominciamo subito dalla prima! E già Nick mi punta il fucile addosso, va bene! Allora, vediamo subito di ripartire, Nick abbiamo entrambi... Un match! Lol! Abbiamo entrambi un 30-06, ragazzi, io c'ho anche un arco, esatto, e tu Nick... Per fare il figo che non serve a niente! No, esatto, non servirà a un tubo, tu Nick invece cos'hai? Niente, solo Deja Vu, comunque sì, c'ho un 243 per cacciare i... stavo a dire i cetrioli! I cetrioli, vabbè! Oggi ragazzi andiamo a caccia nell'orto, va benissimo! I caprioli, però mi è venuto i cetrioli! Immaginate i cetrioli giganti, io Nick oggi li uccidiamo su The Hunter, orto e verdure! I cetrioli, ho sparato in testa al cetriolo! Vabbè! Poi abbiamo il binocolo per guardare le ragazze! Sì, esatto, ragazzi! Vi ricordo anche che... ...che se fate dell'attività del genere siete denunciabili, però noi lo possiamo fare, chiaramente! Ma prima no, lo facciamo di nascosto! Di nascosto, sempre! Denunciabile ugualmente! Poi che cosa abbiamo? Aspetta, cioè richiamo per le alci! Sì! Lo sparo in faccia! Ecco, così mi hai pettinato per bene! Benissimo! Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Bravo, mi stavo... Fai partire esatto, fai partire la sfida, se no possiamo incappare... Allora, timer, mettiamo 45 minuti, vai! Sì, andiamo larghi, andiamo larghi! Perfetto! Ok ragazzi, è partita anche una sorta di gara tra me e Nick sulla caccia all'arena! 45 minuti, no? Che proprio a 45 sono al lavoro! Comunque diciamo un 40 minuti... Una quarantina, sì, se verrà! Vabbè, comunque! E quindi abbiamo il coso qua per le... Per le alci! Per le alci! Questo è per le renne! Ecco, questo giochetto da spiaggia ragazzi è per le renne, il richiamo giusto per noi! Quindi va benissimo! Strenosi il bagnino salvataggio con le renne, vedete? Il giochetto da spiaggia, va bene! Pronti via! E poi ho il richiamo per i cetrioli! E il richiamo per i cetrioli mutanti, che è questo fischio appunto che fanno! No, senti, andiamo di qua, che di là non... Eh, di là non tino! Esatto, giusto così, a caso, di là non ci andiamo, va bene! Di là non mi ispira questa cosa! Di là non ti ispira! Speriamo che questa volta l'ispirazione sia migliore perché... Dì! Altre volte è andata così! Va bene, andiamo ragazzi, proviamo a vedere se la nostra cazza sarà fortunata e speriamo davvero di sì! Dunque, abbiamo mille richiami, quindi bei fucili, speriamo solo di avere qualcosa a cui sparare! Allora, procediamo! Ma il male che va a sparare a te per concludere! Sì, comunque, un colpo almeno lo spari e al limite mi stecchi qui sul selecciato! Vediamo! Allora, andiamo avanti! Ok, ok, ok... Dunque, fino alla prima traccia, Nicky, che dici? Corriamo oppure no? Quale traccia? Non vedo niente! No, fino alla prima traccia casuale che incontreremo! Andiamo di corsa oppure... Mi aspetti un attimo che ti abbassi il tuo volume che è alto adesso! Roger, va bene, sì, sì, vai tranquillo! Intanto io procedo un po' di qua! Ho alzato un po' troppo, mi sa! Ok! Ok! Molto bene! Ok, procediamo e andiamo avanti! Allora, io direi di correre fino alla prima traccia sensibile, se no... Va bene! Intanto guardo indietro mentre corro... No, non ce la faccio, ok! Sì, figurati, ci sono le renne che ci inseguono! Lol! Adi! Comunque, ragazzi, ricordate che... Appunto, non correte mai troppo vicino agli animali, perché sennò chiaramente li spaventerete, ho letto... No, teoricamente non correte proprio perché anche a 200 metri quelli scappano! Sì, vi sentono, infatti forse non cacceremo nulla per questo motivo, ma cerchiamo almeno di trovare una traccia sonora... Eh, sì, sonora e anche visiva! E anche visiva! In questa bellissima ambientazione invernale che un pochino ci stacca dal calore, ragazzi, delle nostre città che fa un caldo epico! Allora, chiaramente niente di niente! Ma figurati! Quindi che ci sono... Perché vuoi trovare qualcosa? No, infatti, siamo venuti qua, ragazzi, per fare una scampagnata tutti assieme, ma... Non credo troveremo un tubo... Allora... Almeno un fungo, qualcosa così da fumare... Niente, niente... Uiii! I femma! Trovato? Il cetriolo! Com'è il cetriolo? Eh, sì, il capriolo, scusa... Da fuck! Molto bene! Nick è già, ragazzi, ha trovato un animale, sono passati pochi minuti... Ma perché tu non l'hai sentito? Assolutamente no! Mia, a me mi ha spaccato le orecchie! Che cacchio! Ma io sono sordo, altro che... Va bene, ragazzi... Già lo vedo! Lolo, aspetta! Oh, cazzo, l'ho sentito adesso! Però ci stanno gli altri... Forse è più di uno, però non lo so... Ma tu non hai il fucile adatto... Ce lo, ce lo, ce lo do... Uh, c'è il maschio! No, tu non c'hai il fucile adatto... Quello è un animale piccolo... Ah! Non lo vedo neanche io, giusto per dire... Eh, ce n'è due, però aspetta... Aspetta, almeno un colpo a farmelo tirare, però... Lo danneggerò un pochino, ma... Ok, molto ardito... Non ho assolutamente visto neanche dov'era... Aspetta un po', ce n'è un altro... L'hai preso? Ma è morto, è morto, è morto, sì! Ok, buono, perfetto ragazzi... Qualche secondo, Gianni che ha impallinato un animale... Mentre io non ho visto neanche un tubo... No, ma tu non puoi sparare col 30-0 al capriolo... No, dici che lo danneggia troppo, vero? Non è il calibro giusto... No, 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 no... Difatti, allora, secondo te, perché mi sono portato questo? Ah, è vero, ce l'avevo anch'io il 2-43... Potevo portarlo al posto dell'arco, va bene... Comunque... No, perché... Io sono venuto per la caccia alle renne, alla fine... Già, nel precedente video che ho fatto su sta mappa... Mi ero informato... E questo è l'unico... Beh, uno dei pochi fucili comunque... Consentiti... Per sparare al capriolo... Ok... E invece per le renne va bene anche il 30-06, vero? Ah, ovvio... Un animale grosso, eh... Benissimo... Allora, ok... Quindi Nick intanto, ragazzi, confermerà la prima kills... Vediamo un po'... Dov'è? Ma io mi... Ah, è là sotto, è là sotto... Non neanche visto... Ah, è questa roba... No, io lo vedo... Ok... Ah, sì, lo vedo... Madonna, era lontanissimo... Eh, beh, sì, eh... Buono... Allora, intanto procediamo... Oh, yeah... Oh, yeah, ma... E ce n'era un altro, eh... Comunque erano due... Quindi erano due caprioli... Uno, vabbè... Sì, però... Però, eh... L'altro era femmine... Questo è maschio... Questo vale di più, sì... Eh, eh, eh... Te lo lascio confermare... Mentre mi do un'occhiata... Che cavolo è? Si muove? No... Da fuck, il mio si è mosso... Sembrava tipo capriolo zombie... Va bene... Benissimo... Conferma uccisione... Nicky score 159.980... Buono... Ottimus... Andiamo avanti, tanto adesso si può anche correre un po', tanto qui... Mmm... Non sempre... Alla volta ho visto che ci stanno anche animali vicini... Sordi, casomai, nelle vicinanze... Che non hanno sentito il colpo... Allora... Io intanto penso, ragazzi, come una renna di Baltimore... Nel senso che... Mi aggiro per queste foreste... Pensando dove andrei... Dato che i miei simili si aggirano sempre qua attorno... E vediamo un po'... Diciamo che... Già siamo contenti che almeno un animale si è visto... Sì, uno almeno si è visto... E... Mi rispetto ad altre volte... Sì, diciamo che c'è qualcos'altro... Ma che cacchio... Un'arrenna, un'arrenna... Dove, dove, Nick? Ma dove lo vi... Dall'altra parte del lago... Dall'altra parte del lago? Porca! Ma tu non senti un cavolo? Ma io sono sordo? No... E' già lo vedo... Ah, spera, Nick, aspetta, non sparare subito... Vediamo... No, non l'ho... Mai neanche vista un'arrenna... Ah, no, e tu che sei? Aspetta, LOL... Un attimo solo, non ammazzarla, eh... Voglio vedere... Eh, ma quella è maschio, belle corna e va via... Non è che possiamo stare lì a... Ah, ma sono di fianco a te? Come faccio a non vederla? Ma cacchio l'ho vista! No... Muore! Era lontanissima, a 200 passometri... L'hai presa? Eh, sicuro che l'ho presa... Ma che cacchio... Nick, sei un cecchino svizzero... Io non ho visto un tubo... Che cacchio! Volume troppo basso di gioco per Strenus... Non sento un tubo, bene... Ok... Eh, perché io l'ho sentita forte, no? Piano forte... Non è che c'è il volume del gioco basso? Eh, sì, è il volume del gioco, sicuramente... Eh, perché lo dico in basso? Devo oltere un po', perché se no non si sente la mia voce in entrata... Però va bene lo stesso... Addirittura... Adesso... Adesso lo olteremo... È il tuo problema del microfono? Eh, sì... Un microfono troppo scarso... Adesso... Dai, fa niente... Eh, quando sarà possibile fatti uno come il mio? Eh, sì... Appena... Ne avrò modo, ragazzi... Prenderò anche io un microfono un pochino più decente... Non quello che si trova... Nelle patatine del McDonald's... E va bene... Allora, vediamo un po'... Quindi Nick ha ucciso appena adesso un mio simile davanti agli occhi... E io uccido Nick alle spalle... Eccoci qua, perfetto... Eeeh, stai calmo... Lol... Vediamo... Tan tan tan... Però c'è una bella scarpinata da fare... No, era lontanissima infatti anche... Non l'ho proprio notata... Ma... Difatti è scappato via e... Dopodiché è sparito... Ah, quindi non l'hai... Non l'hai staccato sul colpo, giusto? No, no... Ok... Però l'ho beccato abbastanza bene... Non dovrebbe vivere molto... Va bene... Cioè... Gli ho sparato addosso... Non è che gli ho sparato di striscio... Un colpo molto preciso, quindi... Ma più o meno... Allora... Diamo un'occhiata alla renna insanguinata di Baltimore... Vediamo un po'... Però vedi... Due... Insomma... Due volte... Sì, due... Già due uccisioni veloci, molto rapide... Io non ho visto ancora un tubo, però ci sta... Lol... Vediamo... Ah, ah, ecco qua... Ecco qua, sì... Traccia... Qua ci dovrebbe essere il sangue da qualche parte... Vediamo... Dunque, questa qui... Eccola qua, renna in fuga... Di qua invece che dice... Teoricamente l'ho vista salire... Deve essere andata sopra... Sì, qua c'è un'altra traccia... È andata verso sopra, io l'ho vista salire... Ecco il sangue... Ecco qua... Presa... Tac... Prima volta che inseguo le tracce dell'arena... Di Battimora... Dove stai andando? Dove vai? Di qua è... Ah, l'hai già trovata? Ok... Andavo... Su per i greppi a caso... Ma ok... Dai... Dov'è la prossima traccia? Vediamo... Ecco la... La traccia però... La prossima traccia però me la dassi in un raggio di 200 metri ancora... Sì, sì, no... Cioè non l'ho beccato in modo mortale... Si è allontanato un pochino... Aspetta, non correre qua perché potrebbero esserci animali... Nick, Nick fermati adesso... Fermati, Nick, fermati... Vedi, vedi... Ecco, dove? Vabbè, spara, dai... Nel sedere li sparo! Eh, che cazzo? Nick l'hai vista? Ah, ma era la mia... Nick era lì davanti a te! No, non l'ho vista perché ero un po' abbassato... La strada... Ma... Assurdo! Credo di averla presa... C'è un altro animale, stai giù! Dove? C'è un altro animale, stai giù... C'è un altro arrenna... Roger... Assurdo! Dai, vai, confermati la kill... Si... Che non so... Non so neanche se era la mia, Ren o la tua... No, no, no... Era fermata a brucare... Gli ho sparato da dietro in testa, credo... Ma si? L'ho presa addirittura in testa perché stavo per sparare nel sedere... Dopo ho detto un po' eccessivo... Vediamo... Ok... L'ho presa al cuore, Nick... Assurdo! Renna maschio da 142 kg... Ragazzi, partiamo bene... Bene, bene, bene... Ok... Ok... Ma... Aspetta, io c'ho riempito... La prima Renna l'ho catturata con voi, ragazzi... Sì, solo che devo capire dove è l'altra Renna che ho sparato io qua... Si... Ah, qui c'è anche una zona dove... Salire in alto e vedere appunto dall'alto tutti gli altri animali... Una zona di visibilità aumentata... Mamma mia, bella kill... L'altra Renna non la vedo... Dovrebbe essere lì davanti a me... Sulle montagne... Abbiamo perso le tracce, dici? Beh, io ho sparato, ho fatto un casino che potevo usare anche l'arco da quella distanza... Ma... Ho visto quel sedere enorme... No, però aspetta, aspetta... Tu hai sparato e lei ha chiamato... Questo è il bello... Ah, sì? Tu hai sparato e poco dopo la Renna ha chiamato... Ah, c'è un capriolo in fuga, eh, qua... Come fai il capriolo, la Renna più bella è? Sì... Lo so, però... Non vorrei che ci siano sbagliati... Volpe rossa... Quanti cacchio di animali c'erano qua? Qua c'è una scagacciata per terra... Una scacarecciata... Vediamo un po'... Eh, che fai, corri? Io ti dico c'è un animale là davanti? Sì, hai ragione, eh, sì. Richiamo. Oh, io non so se ho preso la... L'altra Renna... Aspetta, aspetta... No, sono sparite le tracce... Ah, fosse che era la Renna... Ma dici che era la Renna tua? E si era fermata lì in piedi? Eh, mi sono sparite le tracce... Però non te la torno... C'era Snow Nonic... Ah no, hai ragione! Sai che non... Cavolo, lo rivedo dopo nel video... Perché aveva due colpi segnati... Ah, e allora uno era il mio... Era la tua, esatto, va bene... Quindi alla fine... La Renna di Baltimore ci mette lo stampo... Lo becca al cuore... Vedi? Non so perché si era fermata così a caso... A brucare l'erba... Si era stancata a ricorrere, forse... Può essere... E allora... E allora va bene... Ci dovrebbe essere ora per l'appunto... Un'altra Renna lì davanti... Un'altra Renna lì davanti... E un Capriolo e una Volpe... Che girano da queste parti... Volpe Rosso è vagando... La Volpe è difficilissima da prendere... Molto piccola... Come il Coyote... Siamo in campo aperto... Vediamo un po'... Asuki cosa c'è? Sassi! Sassi, sì! Sassi, sassi, sassi... Allora... Qui c'è una traccia... Capriolo in fuga... Non me ne frega niente del Capriolo in fuga... No, no, ma la Renna non so che fine ha fatto... Forse è scappata veramente... Proviamo ad andare a Nicked... Verso la torretta di... Avvistamento? Eh, ma io la Renna l'ho vista di qua sentita... Ah, ok! Almeno si va un po' ad indagare... Sì! Sì, sì, è meglio indagare un po'... Non corre... Ok... Lo dicevo a me stesso... Vediamo... Oh, che cacchio è? Ah, sei te che cavolo... Lol... Pensare che l'alce dovrebbe essere anche più... Più visibile, insomma... E più trovabile... E invece troviamo le Renne... Meglio le Renne, dai! Capriolo in fuga... Sempre da questa parte... Dall'altra parte... Tweetato giochi con le formine da mare... Bene... Da! Che abbiamo? Fermo! Cos'è sto urlo? Non lo so... Ma sarà... Che cacchio? Non me lo dà nemmeno... Era un rumore della foresta? No! Ho sentito... Ah, ah! Tipo così... L'ho sentito però il PDA non mi dà niente... Che bestia è! Adesso andiamo a... Uccidiamo un drago su The Hunter... Mmm... Ma dovrebbe essere la Renne, mi sa... Ah, forse non l'hanno ancora inquadrato come verso? Boh! Non lo so perché... Capriolo è diverso come suono... Sì, fa tipo quel suonetto... Quel suono di richiamo, insomma... Sì! Allora, qua abbiamo una traccia davanti... Vediamo un po'... E anche una traccia lassù... Ottima caccia su The Hunter, ragazzi! Ah, che qua c'è... No, questa è la traccia di una Volpe... Volpe... Potrebbe anche essere effettivamente una Volpe... Ma io non ce l'ho richiame... No, ma ce l'ho richiame... No, no, richiame per la Volpe non c'era... No! Mamma mia che brisco la prima comunque... Un gran colpo! Si era fermata con le chiappe al vento... Impallinata subito! Allora, qui sopra c'è una traccia... Che non so di chi sia... Ma la zona mi sembra favorevole... E ma vediamo! Capriolo in fuga... Miseriaccia! Va bene, va bene! Ok... Allora... Qui c'è un'ottima visibilità... Campo aperto per noi... Prova Nick con il richiamo delle renne? No, mi serve mai a niente sto coso... Mio Dio, guarda che visibilità c'è da qui! No, tu non ti sei sorpreso? No! Questo? Ah che cacchio... Sembra che il richiamo... Vediamo un po'... Qui sotto chi c'è? Assolutamente... Ci sarà Babbo Natale con le renne? Sì, tra un po', sì! Anzi, è Babbo Natale che ci spara noi... Perché stiamo... Uccidendo le renne! Diamo un'occhiata... Nada! Più totale! Tutti scappati! Ok, aumentiamo un po' il passo... Cerchiamo di... Oltrepassare questa collinetta... Di scavallare... Fermo! Fermo che c'è qualcosa! Renna! Vedi, è la parte dove volevo andare io! A me è così che la renna non me la segna neanche! Da fuck! Ah, io ti seguo! Ok, quindi Nick sente le renne... Io non riesco neanche a capire se è una renna o no... Benissimo! A me me l'ha segnata! No, no! A me sento il rumore ma il PDA non segna niente! Come prima! Forse potrebbe essere buggato che è una nuova specie e non è ancora ben inquadrata! Ah, non lo so! Dove ce l'hai il client? Su Steam o su... Steam, Steam! Eh, pure io! Allora, vediamo! Allora, dovrebbe essere sopra questa montagna ma più in là! Quindi sopra la montagna più in là! Sopra la montagna verso quando la montagna riscende! Ok! Dove scollina la montagna! Ah sì, verso la parte bianca insomma! Cerchiamo di andare a prenderla! Rechiamo Nick! Non... Dici che non funziona? Così almeno la tiriamo verso di noi! Ok! Andiamo un po' basso, guarda che qua magari salta fuori qualche animale! Sì! Eccola la vedo! No! È Capriolo! Sì! Sì sì sì! Capriolo! Aspetta! Capriolo! Sicuro? Sì sì! Eh, Nick! L'arena è davanti a noi! Fermo, fermo, fermo! Eh, penso di avere una vista! Che ci viene proprio davanti! Sì! E qui gli do sotto! Tre! Due! Uno! Benissimo! Colpita anch'io, non so perché non me l'ha segnato! Va bene lo stesso! Ma è che ti ho detto tre, due! Sì, è vero! Alla fine ho fatto tre, due, uno e non ho sparato! Che cacchio! Ho aspettato! Va bene! No, comunque l'hai seccata in un colpo secco! Per quello non l'ha segnato! Era già morta quando l'ho colpita io! Benissimo! Ok! Altra... Renna di Paltimora ragazzi! Catturata! Bellissima partita! Bella Nick! Andiamo avanti! Eh, l'ho colpita solo io! Oh yeah buddy! Sì, io faccio il contatore e poi lo sparo! Va bene! Comunque ci sta! Una... Alla c'era le... Ancora? No, 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 no! No, adesso... Siamo tutti scappati! C'era il cetriolo lì davanti! Cetriolo era qui davanti, sì! Cetriolo a volante! Adesso ci tocca scavallare per bene! Vediamo un po' come stiamo messi io due, tu uno! Io due, sì! Tu due, io uno! Questa! Capriolo vagando! Sì, qui c'era il caprioletto che girava! Comunque il richiamo ha funzionato perché aveva girato l'angolo! E questo è vero! Ci veniva incontro! Molto bene! Allora! Prendiamoci un po' di vantaggio che tanto qua non ci sarà più niente! Capriolo vagando! LOL! Oh, le alzi neanche una! Vero! Cerchiamo di... Esatto! Rallentiamo un po' che qui potrebbe essere già zona... Buona! Questo Pio è epico! Ok, qua c'è una bella semipianura! Sì, una bella distesa! Vediamo un po' Nella distesa le renne fanno la spesa! Allora, vediamo! Tac! Oh! Nick! Renna! Sì, sì, vai! No, no, no! Questa non è una renna! È un'alce! Un'alce? Chiamala! Proviamo a chiamarla che la facciamo... Che c'è l'unica ma la spara e basta, no? La facciamo avvicinare un po' Nick! Ah, aspetta, sì, è un po' nascosta aspetta! Eh, facciamola avvicinare! Benissimo! Vieni di qua, bella renna! Vieni di qua! Brava! Gira l'angolo! Questa Nick non me la fregare! No, no! Ok, aspetta che sono sempre in una posizione abbastanza sterco! So, davanti 6.000 alberi! Aspetta un po', ah, non avere fretta! Aspetta, faccia avvicinare! Magari metti che becco un altro animale e facciamo due in uno! È vero! Prova a richiamarla ancora che la vedo un po' indecisa! Ok, alce femmina! Perfetto! Ok, eccola che ritorna! Mentre lei arriva si potrebbe anche usare il richiamo dell'arena! Casomai va in giro in coppia con una renna! No, c'è il cetriolo, aspetta! Ah, cetriolo e... Dai, dai, dai! Dove, 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 dove? Cacchio, lo dà vicinissimo! Ehi, ce l'ho là! Accanto ce l'ho! Aspetta! Accanto ma non lo vedo! Questo è il bello! Non ti muovere tu! Anch'io! Io varcelo su una roccia! Com'è che non lo vedo? Allora, c'è tu che fai! Ok! Fermi, aspetta! Sì, sì, non lo vedo! Quando lo vedo che non lo vedo! Ah, sarà dietro la collinetta! Ok, io mi abbasso! Ok! Allora, mi abbasso! Se puoi sdraiati pure tu, bravo! Mi sono sdraiato, sì! Allora, ok! Sta venendo verso di te! Aspetta, Nick, che io non vedo l'alce ancora, cavolo! No, no, io non vedo niente! Io neanche l'ho visto ancora, il coso! Ah, sei tu che lo richiami! Ok, perfetto! Sì, no, io non vedo il capriolo ancora! Io non vedo l'alce! Non è che mi fareste un'altra chiamata di alce, vero? Volendo! No, ecco! Perché è dietro, cacchio! Quelle rocce lì non la vedo! Perfetto! Sai che sta vicino alla disgraziata! Dove cavolo è? Sta vicino al cetriolo, là! Lo vedo! Lo vedi? Allora, aspetta! Il cetriolo, sì! Aspetta finché puoi che io... Ecco, allora, l'alce più o meno la vedo! Ok, io pure più o meno... Allora, al 3 spariamo! No, no, aspetta! Io devo farlo avvicinare ancora un po'! Va bene! Io aspetto, anche se è su una collina che per me scappa! Aspetta, aspetta, aspetta! Purnuta, avvecinate! Quando c'è il tiro libero, Nick, dimmelo! Aspetta, ci sono quasi... Ok, ci sono! Allora, 3... 2... 1... Presa! Che sta a farti da piazzerlo? LOL! Credo di averla colpita almeno due volte! Quindi non dovrebbe andare lontano! Benissimo, benissimo, ragazzi! Madonna, divertimento epico! Molto bene! Aspetta che ho... Le polmone! Chiaramente ho cliccato 60 tasti, tra cui il tasto Windows, mi era uscito anche la registrazione! Eh, la madò! Ah, perfetto! Tac! Ho pure perso di... Ah, sei qua! Vorrei alzarmi in piedi e cliccare anche... Ok! Dai, dov'è la renna che andiamo dietro? Perfetto! Allora, la renna è andata... Ah, era l'alce! L'alce, sì, l'alce! Allora, vediamo... Tac! Dunque, l'alce è andata di là! Quindi l'ho colpita almeno due o tre volte! Il capriolo l'hai steccato subito, Nick? Sì, sì! Benissimo! Era vicino, ho sparato vicino al cuore! Ah, io ho lanciato... Un colpo l'ho preso nel corpo, poi scappato e ho sparato altri due colpi, di cui uno credo sia andato a centro! Quindi, vediamo! Ma dove? Io non lo so! Ah, da questa parte! Era proprio... Era un po' distante, eh! Però... Vediamo! Non dirmi che ho beccato l'albero, eh! Ah, può essere! Magari te lo conferma come kill! Ha ucciso l'albero! Lol! Cavolo! C'è una renna che ha chiamato! No, io qua non l'ho sentita! Eh, vedi che allora è probabilmente un bug, un piccolo bug! No! Nick, Nick, mi seguiresti l'alce che qui è per terra, vedi la traccia di sangue? Io intanto seguo la renna di qua! Eh, se trovo la sangue... È qua, guarda! Qua vicino la roccia! Ok! E intanto se... Ah, ok, ok! Esatto! E intanto se usi il richiamo della renna, ce la facciamo venire incontro! Così prendiamo due piccini con una favola! Ok, ok, ok! Aspetta, richiamo! Richiamo renna! Perfetto! E qui dove sono io c'è la traccia di sangue! Vedo, vedo, vedo! Perfetto! Tu vai dietro al coso che io vado dietro al... Sì, intanto io controllo la zona che dovrebbe esserci la renna nei dintorni! Non è che la incontro per caso! Ah, se la incontri facciamo man bassa! No, nel senso che non lo so se metti che... Magari non la vedo, scappa, che ne so! Ah, sì! Tu sai dove, io no! Vai tranquilli, vai tranquilli! Se scappa ne prenderemo un'altra! Allora! Più che altro che la zona non è molto di favore, perché c'è proprio un buco, uno strapiombo qua vicino! Ci viene su da lì sicuro! Vediamo! Lo cacchio è la traccia di stone male, non lo vedo! L'hai persa? È solo quella prima, eh! Non ne ho trovate neanche altre! Oh merda! L'arena, Nick, un attimo solo! Vai, vai! Tant'è! Presa, fatta! Ok, fatta, Nick! Ok, mentre tu hai sparato... Cacchio, c'è un'altra, fuck! Bene! Sparato completamente a caso, non credo di averla colpita! Va bene! Comunque, dunque, sì, se hai voglia becchi quella lì, se no ci facciamo un bel trophy shot con questa renna! E non so come si è messo con l'orario! Ma io non trovo... Non trovi più le tracce? La traccia del tuo animale! No, solo una ce n'è! Ah! Sarà un bug, boom! Allontano un po' magari! Vediamo... Ok, intanto qua c'è un'arena enorme maschio, bellissimo! Guardate ragazzi, che bella specie! Eccola qua! Confermo, corpo, polmone destro, cuore, polmone sinistro, trapassata! Ok, bene così, presa! Questa è andata! E poi se vuoi ti do una mano adesso nella ricerca dell'altra specie, perché... Ah, Nick, l'ho trovato! Nick è qui, guarda! Cadavere era dietro la collina, lol! Vieni qua verso di me! È caduto dietro la collina e non la vedevi più! No, aspetta, non vengo perché metti che c'è qualcosa, almeno la vedo! Ah, va bene, ok! Io confermo anche questa ragazzi! Eccoci qua! Mamma mia! Bella giocata oggi! Stiamo facendo man bassa! Benissimo! Ah, c'è femmina, chiaramente nessun punteggio! Qui ragazzi si scala la classifica, eh! Vediamo! Vediamo un po' qua! Ci sono delle tracce, scede la cacca, il capriolo! Dunque, abbiamo preso in tutto... Catture 3, 3! Animali visti 2, io e 1, te! Quindi alla fine siamo uguali! Benissimo ragazzi, ottima caccia! Ottima caccia, Nick! Vediamo! Dai, altri 5 minuti ce li ho! Sì! Vediamo se siamo fortunati a beccare l'ultimo animale! Vengo anch'io verso di te camminando! Adesso, il primo che becca qualcosa... Porta a casa! Polpe, tutti animali piccoli, difficili da vedere... Aspetta, richiamo il capriolo, eh! Mamma mia! Ho trovato il cadavere dell'alce e poco più avanti c'è la renna! Non me lo male, se no, ma chi ha trovato? Sì! Ok! Le renne, ragazzi, comunque sono fantastiche! Fatte benissimo! Vero! Questo gioco regala sempre le belle emozioni, eh! Vai, ci sta! Sì, perché sono fatte bene, sono fatte! Ci si vede proprio la differenza del pelo, tutto bello grigiastro! Babbo Natale, ragazzi, quest'anno arriverà un po' in ritardo, eh! Perché stiamo decimando i suoi aiutanti! Vediamo! Ok! Io sto a seguire una volta! Non ne ho mai beccata una! Volpi, una l'ho beccata con te, proprio! Che si era sport... Cioè, era uscita da una collinetta! Gli avevo fatto una bella flashata! Il problema è che sono piccolissime! L'avevo maciullata! Io, cosa è stato? L'altro volta ho trovato anche un coniglio! Sì, 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 sì! Anch'io, solo una volta ne ho preso una! Allora, vediamo un po'! Qui abbiamo un po' di scacarecciata di capriolo! Altra scacarecciata! Questa aveva la dissenteria! Cos'è che aveva? Vero! Ok! Senso di tompa, non c'è niente! Volpe rossa? Volpe rossa nei dintorni! Cos'è? Aspetta, no! Ho sbagliato ragazzi! Chiaramente tiro fuori le robe sbagliate! Ok! Tac! Niente! Ma io vediamo! Cerco di guardare giù dalla collina! Perché da qua non c'è niente! Sì, neanche io vedo niente per ora! Beh, comunque abbiamo incontrato diversi animali stavolta, eh! Vediamo! Molto meglio di altri! Allora... Qui ci sono diverse tracce! Allora, vediamo un po' cosa c'è qua sotto! Capriolo! Qui! Tracce! Cos'è quella roba là? Sassi! Con il tasso? Il tasso? Perché io ho capito tassi! Ah no, ho detto sasso! Sasso! Vediamo! Molte tracce e pochi animali! Madonna mia! Ha esterminato le... Sì, è vero! Babbo Natale attivamente pure! Lol! Babbo Natale mi manda una querela adesso! Allora! Vediamo un po'! Qui sento proprio un profumo di renna! Certo, i tuoi simili li riconosci! Ma eh sì! Li fiuto! Allora! Tac! Sì, è 200 metri da me però! Sì, ci siamo un po' separati ma... E non so, io penso che eri dietro di me! No, anzi adesso vengo da tua parte! No, tanto oramai manca 2-3 minuti e poi dobbiamo finire il video! Va bene! Sì, 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 adesso vediamo se riusciamo a raggiungerci bene! Se no, stacchiamo ognuno dalla sua posizione di caccia! Tanto io provo ad accorciare le distanze! Non c'è un tubo? Completamente! Non c'è più un tubo? Eh, ovvio! Abbiamo, sì, abbiamo probabilmente davvero finito qualsiasi tipo di animale che... Però diciamo che comunque deve essere la caccia alle renne! Beh, è stata la caccia alle renne! Ecco perché su 6 kill mi sembra che 3 o 4 almeno sono state renne! 3 o 4 sono renne! All'inizio era affetto da cecità, proprio non riuscivo a vedere assolutamente niente! E adesso siamo riusciti appunto a fare man bassa di vittime! Dunque... Allo mercato che a mo' non c'è più niente! No, abbiamo finito tutto! Credo che a questo punto Nick possiamo chiuderla qui! Oh, vediamo! Mi sa di sì, mi sa di sì! Il tempo stringe! Eh... Ok! Comunque ragazzi volevo dirvi almeno da parte mia che appunto torneremo con Nick a fare altri video assieme che molti di voi me l'hanno chiesto sul canale appunto nei commenti e assolutamente come vedete ci becchiamo ancora! È solo il fatto, come ben sapete, dell'estate che almeno sempre da parte mia richiede diverso tempo e diverso collaboro insomma torno a casa un pochino stanco e stressato, cosa che riguarda anche Nick! Ma presto... Purtroppo sì! Presto appunto ragazzi! Presto torneremo a fare video insieme! Un pochino più spesso! Mi raccomando ragazzi visitate anche il canale di Strenus che anche lui c'è un canale per chi non l'avesse ancora capito! Esatto! Nella descrizione del video vi metto il link del suo canale! Va bene, gentilissimo! Io chiaramente ragazzi sapete bene che non c'è bisogno di fare la pubblicità a contraria! Comunque per i miei iscritti, per chi non conoscesse Nick vada sempre sul suo canale logicamente a fare una bella capata! Va bene, dai non c'è niente! Non c'è più niente Nick, abbiamo preso tutto compreso i funghi! Sì, no, purtroppo quello è neanche quello! Niente quello, niente pasto! Va bene, allora ragazzi, noi vi ringraziamo per averci seguito! Esatto! Come sempre ragazzi lasciate un pollicione in su se il video vi è piaciuto! Sì! Un bel commento! E ci si becca presto! E ci si becca presto! Un bel commento! Iscrivetevi se non siete già iscritti! Fate sempre quello che vi pare ragazzi! Noi ci ribecchiamo alla prossima! Ciao a tutti! Ci ribecciamo! Ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti.